Architetto, si parla oggi di riqualificazione del mercato coperto e dell'ex stadio comunale di Teramo. Come potrebbero cambiare e come potrebbero essere riqualificati? Si tratta di due idee che riguardano l'avvio di un importante processo di riqualificazione urbana che vuole rendere entrambi i luoghi aperti a tutti, senza barriere e accessibili senza barriere. È un'idea che nasce con l'architetto Romani insieme a tutto lo studio che si compone di varie professionalità. Attualmente le fasi ideative sono state superate ed è in corso quella progettuale per l'inserimento di entrambe le proposte nella programmazione dei lavori pubblici. Per far capire a chi ci ascolta come potrebbe diventare un giorno il mercato coperto, cosa possiamo dire? Il mercato coperto rappresenta un momento importante di riappropriazione dei luoghi comuni e soprattutto di un edificio che deve appunto la sua presenza a una serie di relazioni formali con il contesto urbano e che comunque nasce dall'osservazione della realtà, dall'analisi della componente urbana e in particolare dalle opportunità della società in rapporto al contesto urbano in cui si colloca appunto il luogo oggetto di intervento. E invece l'ex stadio comunale voi come lo immaginate con la conservazione della parte verde oppure cementificato? Assolutamente no, alla base c'è appunto la curva che parla e deve continuare a parlare non a caso abbiamo lasciato nel progetto la porta, il dischetto del rigore e soprattutto la curva che partecipa nel suo complesso come parco e spalto allo stesso tempo perché l'idea base è quella oltre che di restaurare la curva est è anche quella di rendere il campo, di conservare il vuoto urbano trasformandolo in un parco attrezzato per eventi e manifestazioni.